Anche Nicola Cavaliere lascia la giunta regionale di centrodestra per ordini di partito di missioni per evitare l'ingresso in consiglio di Massimiliano Scarabeo. Il servizio di emergenza del 118 verrà rimodulato in attesa di reclutare almeno 70 medici da utilizzare nelle 16 postazioni, arriva la firma del commissario Toma. Sempre più imprese chiudono in regione per effetto della lunga contrazione economica nazionale acuita dalla pandemia sanitaria negli ultimi anni. La prossima perturbazione potrebbe rovinare sulla riviera adriatica l'avvio della stagione al mare e negli stabilimenti balneari. Avvio previsto lunedì 1 maggio. Ben ritrovati gentili telespettatori al notiziario di TLT. Nicola Cavaliere non è più l'assessore regionale all'agricoltura e ambiente, una soluzione interna alla giunta di centrodestra per evitare l'ingresso. In consiglio a Palazzo Daimmo del Venafrano Massimiliano Scarabeo, recentemente riabilitato dal Consiglio di Stato. A due mesi da ritorno alle urne, il governatore Donato Toma può solamente contare sugli assessori Cotugno e Pallante. Le dimissioni di Cavaliere rappresentano come l'attuale maggioranza di centrodestra e più concentrata sulla campagna elettorale che nella risoluzione delle problematiche del territorio e lo commento dai banchi di opposizione del Movimento 5 Stelle. Ancora per la politica, costruire democrazia in vista delle elezioni regionali di fine giugno esprime riserve sul metodo e sul merito di presunte scelte su Domenico Iannacone, candidato presidente nel campo del centrosinistra, in quanto calate dall'alto e prive di condivisione di programmi ed intese. Il Movimento creato dall'Avvocato Massimo Romano ribadisce la necessità che l'indicazione del Presidente della Giunta debba ricadere su persone dotate di competenze amministrative idonee, Costruire democrazia proseguirà nei prossimi giorni nell'allargamento del perimetro politico della sua aggregazione autonoma ed indipendente. Decisioni e comportamenti medici e gestionali difficili da verificare le numerosi morti per Covid per adesso non hanno responsabili, ma la vicenda non è chiusa. L'inchiesta giudiziaria nel Palazzo del Tribunale di Viale Elena per epidemia e omicidio colposi va archiviata. Individuare colpevoli sempre e comunque sulla gestione della pandemia da coronavirus in Molise non ha molto senso. In pratica non ci sono prove sufficienti che decisioni diverse avrebbero modificato l'incidenza dei decessi al Cardarelli, ma non è dello stesso parere il Comitato Verità e Dignità per le Vittime del Covid. Il Procuratore della Repubblica Nicola D'Angelo ha chiuso le indagini, ma il Comitato ha fatto sapere che non si fermerà qui e che proporrà nuova opposizione per fare luce sulle centinaia di decessi avvenuti nei letti del nosocomio di Contrada Tappino tra marzo 2020 fino ad oggi. Nel registro degli indagati della Procura sono finiti Oreste Florenzano, ex direttore generale dell'azienda sanitaria, Virginia Scafarto in qualità di ex direttore sanitario, Angelo Giustini all'epoca ex commissario alla Sanità molisana e Celestino Sassi ex responsabile dell'ospedale Cardarelli, a far sorgere altri dubbi ai componenti del Comitato Vittime. Inoltre, il funzionamento dell'impianto di ossigenazione e la mancata costruzione della torre Covid, sempre nella struttura pubblica del Cardarelli, per contenere, limitare e meglio intervenire sui malati contagiati dal coronavirus. Anche in questi due casi, giudici della Procura della Repubblica dovranno dare le necessarie spiegazioni. Donato Toma in qualità di commissario ad acta per la sanità ha firmato il decreto che ratifica l'accordo per la rimodulazione delle attività aggiuntive dei medici di medicina generale convenzionati nel settore emergenza territoriale 118. L'atto risolve in via temporanea la grave emergenza del servizio 118 dovuta alla carenza di personale. Si tratta di una misura finalizzata a garantire i livelli essenziali di assistenza e reclutare almeno 70 medici per garantire la presenza di essi nelle 16 postazioni della rete molisana dell'emergenza. Nella sede dell'Università del Molise a Campobasso domani e domenica spazio ad un appuntamento scientifico nazionale sulla fisioterapia muscoloscheletrica. Per la prima volta arriveranno in regione circa 300 professionisti provenienti da tutta la penisola. Cambiamo ancora argomento. L'andamento demografico delle imprese colloca il Molise in una posizione negativa nel primo trimestre 2023 il tessuto imprenditoriale ha registrato una forte riduzione tra diminuzione di nuove iscrizioni e chiusure. Il dato molisano è allarmante. Sottolinea una condizione economica in forte crisi. Lo si evinge dalle analisi di nuove imprese che entra per ogni trimestre per conto di Union Camere in merito alla situazione demografica delle imprese in Italia. In Molise, nel primo trimestre di quest'anno, il sistema imprenditoriale ha visto una riduzione di ben 278 unità, variazione del meno 0,81% del corpo delle imprese. Il dato è determinato dalla diminuzione delle iscrizioni allo specifico registro della Camera di Commercio, con 441 unità, meno 14,7% rispetto al primo trimestre del 2022, un valore bassissimo mai registrato negli ultimi 20 anni, e ancora la crescita delle chiusure, con 719 unità, un più 11,1% rispetto alle 647 dello scorso anno. Il conto complessivo, comunque, è di 33.911 le imprese registrate in Molise a fine marzo 2023. La crisi è evidente. I numeri raccontano che la nostra regione è quella, in percentuale, a causa soprattutto delle cancellazioni avvenute verso la fine dello scorso anno, che detiene una sorta di primato negativo tra tutti i territori italiani. Percentuali significative e problematiche, che riguardano quasi in copia carbone entrambe le province molisane, dove a Campobasso si arriva almeno 0,82% e a Iserni a meno 0,79%. Naturalmente non riguardano tutti i settori, infatti aumentano le attività in alcuni comparti imprenditoriali, a partire da quelle professionali, scientifiche e tecniche, con tre unità in più, quelle relative alla sanità e all'assistenza sociale, con due unità in più, e quello dell'istruzione che registra la crescita di una unità. Arretrano invece i settori dell'agricoltura, con 129 unità in meno, il commercio, con meno 94, i servizi relativi all'accoglienza, gli alloggi e la ristorazione, con meno 46 unità, delle costruzioni, meno 42, e le attività manifatturiere, con 34 unità in meno. Dallo spopolamento alla chiusura delle fabbriche di piccole aziende, in regione occorre agire prima che sia troppo tardi, i numeri preoccupano, e la tenuta del sistema economico e sociale è messo a dura prova. Senza lavoro stabile, con l'inflazione che erode il potere d'acquisto, fino all'ultima perdita di un'intera mensilità in un anno, è prevedibile, conclude il sindacato Will, che le famiglie migrino altrove e le imprese chiudano i battenti. Sempre a proposito di imprese, quelle aderenti all'associazione costruttori tornano ad appellarsi alle istituzioni, affinché provvedano ad una nuova iscrizione in bilancio delle somme che devono avere e a velocizzare le istruttorie dei pagamenti. Anziani e giovani, insieme si può, il dibattito promosso dall'Arcidiocesi di Campopasso Boiano si svolgerà domani pomeriggio nella parrocchia San Giuseppe Artigiano e nella città Capoluogo, un tema di attualità in una realtà che, se da un lato soffre dello spopolamento giovanile, dall'altro a una popolazione sempre più anziana, nel corso dell'evento sarà presentato il progetto che mira a promuovere la nascita di un intervento rivolto ad anziani fragili attraverso attività di animazione. Un importante risultato è stato raggiunto in Molise riguardo al debito pregresso dovuto alla decisione assunta a causa del terremoto 2002 di non versare i contributi dei lavoratori lasciandoli in busta paga. Andiamo a vedere. Tutti insieme, Regione, IMSS, Struttura Commissariale della Sanità e l'ASREM hanno risolto una vicenda annosa e complicata che si trascinava da alcuni anni senza trovare una sola possibilità di soluzione e che era stata interessata da un vero e proprio contenzioso, anche giudiziario, tra diverse strutture pubbliche. Una vicenda che riguardava la decisione politica ed istituzionale di lasciare, in occasione del sisma del 2002, i contributi dei lavoratori pubblici nelle buste paga non versandoli agli istituti di previdenza. Un dato che riguardava ben 87 milioni di euro da dover versare all'Inps, di cui sono stati versati soltanto 18 e che oggi sono diventati, dopo un'analisi accurata da parte delle strutture contabili, un accordo di rottamazione Quater che prevede l'abbattimento del debito a 34 milioni da versare all'Inps in rate trimestrali per 5 anni. Era un'estensione che come ha sancito da ultimo la Cassazione nel 2019 chiudendo la vicenda non era possibile fare, per cui avremmo dovuto versare a richiesta dell'Inps 87 milioni circa. 87 milioni comprendono sanzioni e interessi. Con la previsione normativa della cosiddetta rottamazione Quater di fine anno 2022 noi abbiamo la possibilità oggi di risparmiare interessi e sanzioni e di versare semplicemente il dovuto in quota capitale cioè i contributi trattenuti sui dipendenti. Riduzione notevole è una riduzione che è giusta perché tra pubblica amministrazione applicare le sanzioni insomma è spiacevole però abbiamo lo strumento normativo abbiamo avuto la disponibilità della direzione regionale della direzione provinciale dell'Inps della direzione generale dell'Inps oggi c'era questo strumento ci siamo seduti attorno ad un tavolo e con gli uomini e con le donne di questi istituti della regione dell'Inps e dell'agenzia riscossioni e dell'ASREM la struttura commissariale siamo riusciti a venire a capo di questa io la chiamo deplorevole vicenda. Tra i nostri valori insieme all'innovazione il dialogo è un riferimento costante dell'attività senza il dialogo non avremmo risolto quella che il presidente ha definito una deprecabile vicenda abbiamo trovato un interlocutore professionale e attento alla necessità di risolvere questo ingentissimo debito contributivo per la regione per ASREM e per i cittadini di fatto della nostra comunità regionale quindi ringrazio agenzia entrata riscossione ringrazio i colleghi IMS che hanno seguito questa complessa posizione oggi pubblicizziamo il fatto che si è definito un contenzioso annoso articolato molto delicato anche per le questioni esecutive su un credito di quasi 87 milioni complessivi come importo di partenza del credito abbiamo consolidato e reso certo ed esegibile un credito per oltre 50 milioni di euro un credito contributivo e abbiamo soprattutto consentito alla regione ad ASREM di definire un piano di rientro del debito nel rispetto della legge e finanziariamente sostenibile questa sera al municipio di San Martino in Pensilis l'associazione culturale La Grande Onda ha presentato il primo concorso La Carrese nel terzo millennio l'incontro ha offerto un tavolo di confronto sulle Carresi nel basso Molise della vicina Chieuti legate dal filo conduttore che è il tratturo il concorso è aperto a tutti e l'invio delle opere sarà possibile fino a 4 giugno l'ex presidente del parco siciliano dei Nebrodi Giuseppe Antoci domani si regherà nella sala convegni del comune di San Pietro Avellana per presentare il libro Denuncia alla mafia dei Pascoli appuntamento alle 17.30 nella Palazzina Libertia Venafro domani alle ore 18 l'associazione Venus e la cooperativa Il GEC ospiteranno lo scrittore Carlo Antonio Secondino che presenterà al pubblico la sua esperienza raccolta in un libro in cui narra di un suo viaggio in Africa le parole di Secondino diventano strumento prezioso per sventare attacchi alla libertà e alla ricchezza insita nella diversità dei popoli L'associazione Ambiente Basso Molise festeggia domenica 30 il volontariato con una giornata dedicata alla natura e a quanti si impegnano per salvaguardarla l'appuntamento è per le ore 10 al centro di educazione ambientale nel Bosco Fantine a Campo Marino per dare vita ad una serie di iniziative la giornata prevede l'incontro dal titolo un pipistrello per amico per conoscere questo mammifero in via di estinzione e la lezione sul percorso dei sanniti a cura dell'archeoclub Restiamo sulla riviera triatica a causa l'arrivo di nuove piogge potrebbe slittare l'avvio della stagione balneare 2023 lunedì 1 maggio la stagione balneare sulla riviera molisana partirà ufficialmente i titolari degli stabilimenti lavorano per ripulire l'arenile e iniziare a piantare i primi ombrelloni per l'occasione che coincide con la giornata festiva ma probabilmente le condizioni meteo non saranno favorevoli come prospettato dagli esperti del settore nei prossimi giorni è previsto infatti l'arrivo di una nuova perturbazione che porterà precipitazioni piovose diffuse su gran parte della penisola sono diversi i comuni che si sono organizzati in eventi artistici concerti e carresi per attirare i visitatori il primo maggio ma il previsto cambiamento climatico potrebbe rovinare molti piani per la stagione al mare in ogni caso nulla è compromesso si tratta solo di rinviare di qualche giorno l'arrivo dei primi ospiti sulla spiaggia ma il vero obiettivo resta quello di farsi trovare pronti per i mesi classici della bella stagione luglio e agosto e magari sole permettendo di allungare l'estate alla prima decade di settembre e offrire ai vacanzieri non solo svago sulla spiaggia ma anche proposte culturali culinarie e ambientali l'amministrazione comunale a Palazzo Sant'Antonio a Termoli inaugurerà domani mattino il nuovo parco rionale in via Pascoli nel quartiere di Colle della Torre un parco al servizio soprattutto dei cittadini residenti ed ancora a Termoli concerti musicali mercatini di artigianato e divertimento per la festa del primo maggio eventi organizzati dall'amministrazione comunale in collaborazione con la Proloco condizioni climatiche permettendo sette gli eventi musicali che saranno protagonisti lunedì primo maggio dalle ore 18 in diverse zone della città al via la seconda edizione del concorso enologico regionale premio Ercole promosso dal comune di Macchia di Sernia il termine ultimo per la consegna dei campioni divini doc è il 15 giugno in qualità di presidente della commissione tecnica ci sarà Andrea Pala uno dei più famosi enologi italiani riscoprire i vitigni autoctoni per riscoprire la storia le tradizioni e anche la biodiversità vitivinicola del paese questo è il pensiero del giovane enologo sardo e adesso come ogni giorno spazio al meteo Metalimpianti carpenterie metalliche civili e industriali scale acciaio corten serramenti in alluminio pvc e legno alluminio Metalimpianti Boiano info 0874 77 34 54 gruppo Zulli dal 1975 con oltre 50.000 metri quadri di pavimenti e rivestimenti in pronta consegna a prezzi di fabbrica Zulli ceramiche a città Sant'Angelo e nei pressi di Mondo Convenienza aperti tutti i giorni compresa la domenica la gamma commerciale tutta l'energia che ti serve specialisti delle batterie e degli accumulatori e in Viale Olanda nella zona industriale di San Salmo sole e alta pressione oggi su Molise e Abruzzo debole nuvolosità dalla sera le temperature sono comprese tra gli 11 e 22 gradi di Isernia per il Molise e tra la minima di 8 gradi all'Aquila e la massima di 22 acchieti per l'Abruzzo venti deboli sud occidentali calmo il medio adriatico sulle due regioni domattina in arrivo una perturbazione da nord valori climatici invariati o in leggera flessione correnti meridionali tlt in rete vivi con noi le emozioni dei campionati di serie di eccellenza e promozione risultati contributi dai campi e interviste ai protagonisti tlt in rete ogni domenica dopo le 22 e in replica il lunedì alle 15 e 30 oggi a San Giuliano del Sannio è stata la giornata della cultura delle regole e delle emozioni nell'impianto sportivo di tiro al volo l'evento conclusivo si è svolto in contrada torretta cura della delegazione regionale della federazione italiana tiro al volo la squadra master dell'H2O ha chiuso la stagione natatoria nel trofeo romano organizzato nello sport club center dell'acquaniene medaglie d'oro e record personale sui 50 metri d'orso per Jacopo Trivisonno medaglia d'oro e anche qui record personale sui 50 farfalla anche per Marzia la vecchia passiamo al calcio con sole due giornate di campionato dalla fine della stagione regolare in serie D il neo allenatore del Termoli Alessio Martino dovrà quasi esclusivamente lavorare sulla testa dei suoi calciatori per trovare le giuste motivazioni ascoltiamolo prendere il comando di una squadra due giornate alla fine con la prospettiva di un incontro che potrebbe segnare addirittura facendo scongiure anche qualcosa di non positivo per la squadra del Termoli ci vuole anche coraggio e anche voglia di allenare Termoli è una piazza molto ambita una piazza che è tornata in categoria e ovviamente non ci ho pensato minimamente anche se potrebbe essere una cosa diciamo molto pesante per qualcuno per me deve essere devo trasmettere dobbiamo trasmettere insieme ai ragazzi ai giocatori al pubblico quella voglia quella motivazione che ha la società che aveva il vecchio staff di ottimizzare il lavoro fatto bisogna essere tranquilli e consci delle proprie qualità di una squadra che ha espresso sempre un buon calcio è una squadra di qualità dobbiamo andare sulla motivazione e ovviamente trasmetteremo quella che è la mia voglia quella che è la voglia di un allenatore che come ha detto lei è venuto senza pensarci due volte non si fanno calcoli non si guarda la classifica si arriva in un punto per lavorare per portare quella motivazione e porteremo quella motivazione giusta per andare a giocarci queste tre finali lei conosceva qualche giocatore di quelli che oggi è a disposizione prima di venire qui? Sì conosco anche il girone ero stato accostato a diverse panchine in questo girone diciamo che ormai avevo paventato l'idea di finire quest'annata invece è arrivata all'improvviso quindi il girone che ho seguito ho seguito parecchie squadre ho visto anche il Termoli più volte ho visto il Matese la San Manettese ho visto varie società il Montegiorgio dove sono stato anche calciatore e quindi conosco il girone i calciatori li conosco perché hanno giocato più o meno contro giocatori che l'ho apprezzato le qualità non sono giocatori di qualità il Senigallia continua ad inseguire il Pineto in vetta al raggruppamento F della serie D per i marchigiani il secondo posto è quasi blindato dopo il successo di misura sull'Avezziano vediamo le immagini la Vigor però ci crede ancora e lo ha dimostrato anche oggi con il tecnico Clementi che accantona inizialmente il suo tradizionale 4-3-3 disponendo i suoi con un 3-5-2 speculare rispetto alla formazione avruzzese che nelle prime battute dopo il calcio di avvio prova ad imporre ritmi e gioco con un atteggiamento molto aggressivo i rosso-blu assorbono senza correre rischi le offensive dei bianco-verdi e con il passare dei minuti alzano il baricentro iniziando a macinare il gioco e superata la metà della frazione provano ad accelerare creando il primo pericolo con Bartolini al 23esimo che dalla sinistra prova un tiro cross insidioso costringendo Cocco ad allontanare passano pochi secondi e la Vigor reclama per un Mani in area dopo una bella intuizione di Denis Pesaresi ma Albano di Venezia lascia proseguire tra le proteste del Bianchelli un minuto dopo è Baldini che ci prova al termine di una manovra insistita nei pressi e l'area ospite ma filosa allontana in angolo a pochi metri alla porta la Vezzano si raccoglie a protezione ai propri 16 metri e la Vigor pur continuando ad esercitare una pressione costante non riesce a costruire altre palle gol fino al ritorno negli spogliatoi dopo il riposo forse consapevoli delle buone notizie che stavano arrivando da Pineto la Vigor spinge subito con grande convinzione e inizia a collezionare occasioni al quinto Keriota su punizione a destra mette al centro Denis Pesaresi in tuffo corregge ma la sfera finisce al lato di pochissimo un minuto dopo da un'altra iniziativa di Keriota un rimpallo favorisce Ballello che si ritrova tra i piedi il pallone del vantaggio a pochi passi alla porta ma il giovane attaccante Rossoblu non riesce a trovare il tempo per la battuta a rete e viene chiuso in angolo sul successivo tiro dalla bandierina è ancora Capitan Pesaresi che prova a risolvere con una rovesciata che non trova la porta l'Avezzano cerca di tenere in piedi il fortino assediato dalla pressione asfissiante della Vigor che l'undicesimo ancora da corner manca l'1-0 con Marini che di testa schiaccia troppo un minuto più tardi è Alessandro Pesaresi in campo a pochi minuti a colpire di testa su cross di Bartolini ma il pallone termina ancora tra le braccia di Coco i rosso-blu insistono e al diciottesimo trovano il meritato vantaggio ancora Keriota su punizione da destra trova la testa in area di Marini che stavolta corregge in maniera imparabile per Coco confiando la rete sotto la curva rosso-blu che esplode in un boato liberatorio la Vigor amministra con attenzione nei minuti finali l'Avezzano prova a crederci ma alla fine si arrende al triplice fischio finale i ragazzi Clementi festeggiano con i propri tifosi l'ennesimo successo stagionale interno anche se la notizia alla rete del pareggio e il Pineto nei minuti conclusivi attenua all'entusiasmo senza però spegnere la speranza di riuscire nelle due giornate rimaste di conclusere la propria incredibile rimonta Passiamo adesso alla pallacanestro femminile dopo il titolo Under-15 la Magnolia trionfa nel girone interregionale di Under-17 e Under-19 nella finale a Vasto le ragazze di Campobasso non hanno lasciato scampo al Chieti le giovani magnolia si sono qualificate per il concentramento nazionale dall'11 al 13 maggio a Pontinia in provincia di Latina un'occasione di confronto con le istituzioni locali del CONI tra eventi futuri e problematiche di impiantistica il Molise e l'Intania intera hanno bisogno di maggiori risorse finanziarie dedicate allo sport il concetto è stato ribadito a Isernia a Giovanni Malagò presidente nazionale del Comitato Olimpico Presidente del CONI Giovanni Malagò qui allo stadio Mario Lancellotta di Isernia per la prima volta di Isernia per la prima volta in questo impianto sportivo l'emozione è tanta e dimostra l'attenzione del CONI nazionale e anche dell'esecutivo perché voglio ricordare che oggi c'è stata l'aggiunta nazionale a Campobasso dell'esecutivo e del presidente del CONI l'attenzione verso il nostro territorio verso lo sport della nostra regione e oggi pomeriggio verso lo sport di Isernia e della provincia di Isernia bisogna investire puntare sullo sport e sull'impiantistica sportiva è stata fatta la promessa dal presidente Malagò dopo la nostra elezione di venire qui in Molise e di portare l'aggiunta nazionale e promessa mantenuta siamo stati felicissimi naturalmente di ospitare lui e soprattutto l'aggiunta perché non è mai successo che l'aggiunta nazionale si facesse qui in Molise a Campobasso vedo che significa che comunque Roma ci guarda sta vedendo quello che stiamo cercando di fare sul territorio e la sua presenza qui secondo me significa che sta apprezzando ha apprezzato la nuova sede ha apprezzato gli sforzi che abbiamo fatto nonostante la situazione che c'è adesso al CONI siamo riusciti comunque a fare delle belle cose l'atleta termolese Stefano Pellicano si è giudicato a Castelpetroso il secondo trofeo di bocce Felice Ruscitto Pellicano è tesserato per la società Madonna delle Grazie in finale ha superato il laziale Giuseppe Salera al terzo gradino Giacomino Farrace portacolori del club la torre di Vinchiaturo e con questa notizia di bocce è veramente tutto noi ci fermiamo qui arrivederci vi lasciamo alla nostra programmazione